Ciao a tutti ragazzi sono Epitriper e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Questo ragazzi però invece che essere un episodio completo sarà un semi-episodio ed è tra l'altro il primo episodio della nuova serie. Per chiunque si stia chiedendo cos'è un semi-episodio sono semplicemente degli episodi all'interno dei quali non faccio molto. Per esempio in questo qua mi dedicherò a parlare e decorare un attimino più che altro la zona del nostro mondo costruita fino ad ora ma solitamente può anche capitare che nei semi-episodi faccio fuck oppure rispondo alle vostre domande semplicemente. Quindi questo qua sarà il primo semi-episodio della nuova serie e ci dedicheremo più che altro a decorare all'interno del nostro mondo. Tra l'altro ragazzi dopo aver registrato questo video partirò quindi purtroppo non sarò in grado di caricarvi video per un periodo di tempo infatti fino al 23 se non mi sbaglio sarò in vacanza al mare a Cattolica dove cercherò comunque in caso di registrarvi magari qualche vlog ma ne dubito seriamente visto che sono veramente poco tempo a casa anche lì e soprattutto là la connessione non c'è. Quindi ragazzi non so se sarò in grado di caricarvi qualcosa dal mare ma comunque ci proverò. Tra l'altro come potete notare ho sostituito anche la farm che avevamo fatto con quella che vi ho mostrato all'interno del mio mondo segreto tra virgolette e devo dire che funziona veramente meglio rispetto a quella che avevo mostrato prima. Se volete vedere il tutorial su come costruire questa farm di pesca invece che quella che vi ho mostrato nello scorso episodio della serie potete andare a vedere il video del mio mondo segreto. Comunque ragazzi con le decorazioni. Allora la mia idea principale di decorazione era quella di aggiungere un attimino qualche cespuglio intorno a casa mia in quanto come potete vedere è una zona in cui non si può costruire moltissimo essendo una zona di rialzo quindi secondo me qualche cespuglio e qualche recinzione messa così a caso ci può stare anche abbastanza bene. I cespugli per chiunque se lo stia chiedendoli faccio semplicemente con delle foglie prese dagli alberi tra l'altro sono andato a distruggere un albero di quercia abbastanza grande dietro la collina che fortunatamente da qua non si vede che poi provviderò a rimuovere una volta tornato a casa perché purtroppo diciamo che non è bellissimo da vedere. Comunque ragazzi cercherò di rispondere ai vostri commenti se mi arriveranno durante il viaggio in macchina per il semplice fatto che appunto nel momento in cui questo video sarà online io sarò in macchina già in viaggio quindi ragazzi cercherò comunque di fare del mio meglio se la connessione in autostrada non prende con il 3G è per quello che non vi rispondo cercate un attimino di avere pazienza. Comunque qua vorrei un attimino aspettare a fare una cosa anche se potrei già cominciare a iniziarla e volevo fare una sorta di piccolo falò e per farlo volevo semplicemente mettere per terra un po' di cobblestone della legna piazzata giusto per far sembrare che effettivamente è una zona in cui è stato acceso un bracere. Con ciò vediamo un attimino se riesco a farmi delle slab con la legna che mi è avanzata dovrei essere in grado di farmele tranquillamente in quanto mi era avanzata un po' di legna dai vecchi progetti purtroppo ancora non sono andato nel nether perché non ho ancora trovato abbastanza diamanti per farmi un piccone quindi prenderlo ossidiana però comunque diciamo che potete già immaginare come sarà il progetto completo una volta che avremo appunto iniziato il falò. Qua direi di togliere a questo punto i fiori che mi danno un po' fastidio e per il falò secondo me ci può stare bene una cosa di questo tipo ovvero non lo so una sedia fatta con della cobblestone di qua poi una panca fatta con dei log esattamente come capita nei boschi così secondo me si può anche fare di tre e da questa parte la stessa identica roba non so se farla attaccata no facciamo la staccata dai dal muro ma a questo punto abbiamo deciso appunto di farla staccata di qua magari la tengo di due giusto per non tenere le cose troppo congruenti che sennò poi sembra troppo innaturale come cosa poi qua in mezzo ci sarà il falò quindi lascerò un buchetto giusto per indicare che qua ci andrà il blocco di nether con sopra poi la fiamma che servirà appunto per decorare e qua intorno vorrei fare innanzitutto cobblestone principalmente la cobblestone dovrebbe praticamente sembrare la carbonella bruciata per chiunque se lo stia chiedendo ovvero quella parte bianca rilasciata un attimino da un incendio o comunque da un falò che secondo me ci può stare molto bene come decorazione poi per mettere un pochino più di incongruenza no no il piccone no si che ce l'ho eccolo qua metterei una scala qua in mezzo giusto per appunto dare questo effetto poi quando ci sarà il blocco di nether qua in mezzo ci starà meglio a questo punto comincio a mettere magari un semplice blocco così per dare l'idea e dopodiché qualche slab qua intorno giusto per appunto cambiare un attimino la texture ragazzi fare questo lavoro secondo me aiuta molto bene soprattutto per decolare zone tipo campeggi oppure falò in quanto stiamo lavorando al falò in quanto è una zona che secondo me dovrebbe essere anche un pochino passata essendo un falò ci si aspetta che il fuoco abbia rovinato un po' l'ambiente circostante più che altro quindi secondo me ci può stare abbastanza bene fare cose di questo tipo qua mi sembra ancora un po' troppo congruente come cosa quindi direi di togliere di metterci magari la slab che abbiamo piazzato qua che non ci sta troppo bene quindi secondo me così può starci sì così ci sta decisamente meglio poi qua magari qualche log messo così giusto per anche uno qua che secondo me non ci sta troppo male e a questo punto qua di fianco gli mettiamo anche un altro log così ci dovrebbe stare abbastanza bene sto utilizzando un metodo molto simile a quello che avevamo utilizzato per fare il campeggio nella scorsa serie se vi ricordate la maggior parte di voi probabilmente non se lo ricorderanno perché sono nuovi ma comunque per chiunque abbia seguito la scorsa serie è molto simile al campeggio della scorsa serie questo tra l'altro qua sotto a questo punto ci metterei della cobblestone per fare in modo che tipo sembri che alcuni sassi che hanno costruito questa panchina siano caduti lì in basso e a questo punto direi magari di mettere qualche cespuglio qua così che contorna la mia casa in maniera tale che aggiunge anche un pochino di colore così e a questo punto anche uno di qua dove c'è il camino però questo qua un po' più rovinato quindi secondo me già una cosa di questo tipo ci può stare abbastanza bene a questo punto sfrutto lo spazio interno in uno di questi cespugli per metterci una torcia e illuminare la zona senza mostrare troppo appunto la fonte di illuminazione ovviamente si vedrà lo stesso ma comunque è giusto per mimetizzarla un po' e secondo me ci può stare bene quando ci sarà la fiamma qua in mezzo ci starà molto meglio ragazzi lo so perfettamente ma per ora quello che possiamo fare è questo e a questo punto direi magari di metterci anche una piccola panchina così comunque adesso vi faccio vedere quale dovrebbe essere l'effetto dato dal falò secondo me ci può stare molto bene e poi vabbè ognuno ai propri gusti e a questo punto ragazzi vi faccio vedere tra l'altro appena avremo il pezzo di blocco del nether non lo metterò soltanto qua bensì lo metterò anche all'interno del camino in quanto di vedere la fiammela del camino generata dalla fiamma della torcia è una cosa un pochino triste però comunque è il massimo che possiamo fare per ora non so per quanto ancora brucerà ma l'effetto dovrebbe essere questo quindi secondo me ci può stare abbastanza bene allora altre decorazioni appunto stavo dicendo le recensioni qua di fianco le abbiamo già messe di qua c'è l'orto quindi secondo me non serve aggiungere altro a questo punto direi di passare un attimino a fare il viale per il ponte infatti ragazzi da questa parte costruirò un ponte in quanto in molti mi avete consigliato di farlo per collegarlo al deserto e farò probabilmente un ponte simile a quello che ho mostrato all'interno del mio mondo segreto continuo a chiamarlo così più che altro perché è il titolo del video comunque il ponte si farà molto simile a quello lì lo farò partire da questa parte in quanto come potete vedere c'è un piccolo dislivello che dà con l'acqua quindi a questo punto non mi abbasso il sentiero bensì faccio già partire il ponte da qua e visto che sta facendo notte a questo punto vado a dormire e ci dedichiamo poi a decorare effettivamente la zona con un viale fatto di alberi gli alberi li farò alti ragazzi farò vedere il metodo più che altro per far crescere gli alberi direttamente abbastanza alti che tra l'altro è un metodo abbastanza conosciuto ok ragazzi rieccoci in questo viale come vi ho menzionato prima ho intenzione di fare una piccola arcata con degli alberi sfruttando poi magari qualche blocco di legno o di liana o magari anche semplicemente di foglie che ho appena preso per appunto fare magari una sorta di arco naturale sopra il vialetto che conduce al ponte comunque per chiunque se lo stia chiedendo per fare gli alberi alti c'è un metodo che è abbastanza conosciuto che soprattutto va avanti da qualche anno praticamente da quando è stato scoperto questo metodo il metodo semplicemente consiste nel piazzare 5 blocchi d'altezza a vostro piacimento tanto poi saranno da rimuovere dopodiché piazzare 5 torce sui blocchi adecenti a questi ovvero mettere 5 torce così e davanti al blocco, avevo dimenticato i sapling che sono il punto più importante comunque davanti al blocco più in basso con la torcia bisognerà mettere un sapling questo metodo ragazzi forzerà l'albero a crescere dalla massima altezza degli alberi o comunque di forzarlo per fare in modo che l'albero sia il più alto possibile e quindi di fare uno di quegli alberi che dispongono anche dei rami che secondo me ci stanno veramente molto bene per decorare un mondo ovviamente ci si metterà un po' a farli crescere questi determinati tipo di alberi quindi secondo me conviene farmare un bel po' di ossa ma comunque come potete vedere nella maggior parte dei casi crescono alberi abbastanza alti che secondo me ci stanno bene per decorare a questo punto lo farò anche per il resto del viale probabilmente con una distanza di 5 blocchi da un albero all'altro e quindi ragazzi a questo punto direi che mi conviene andare a prendere il resto delle ossa che volevo ottenere per fare la decorazione sulla farm di pesce a forma di lisca ma a questo punto mi sa che mi conviene utilizzarli e poi al mio ritorno dal mare li farmerò ancora ok ragazzi il risultato finale dovrebbe essere una roba del genere tra l'altro qua vedo che stanno cadendo dei sapling per motivi a me sconosciuti comunque qua intorno ovviamente metterò altri alberi normali più che altro per rendere la zona minimamente più naturale quindi far... perché ci sono dei sapling? e quindi far sembrare che effettivamente questo qua sia un arco naturale non fatto da me e a questo punto direi che l'unica cosa che rimane da fare è un attimino aggiungere qualche decorazione come collegamento tra questi due ponti e a questo punto saprete già che utilizzo le recinzioni non so perché ho chiamato ponti l'arco formato dagli alberi ma comunque la mia idea è quella di mettere qualche recinzione così in maniera tale che appunto sia più che altro decorativa e non effettivamente funzionale serve più che altro indicare che questa zona una volta era un passaggio che soprattutto è stato rovinato con il passare del tempo a questo punto visto che effettivamente il passaggio deve anche sembrare deteriorato qua ha mancato qualche fence mettere qualche foglia di quercia così a caso durante il sentiero in maniera tale che sembrino magari cespugli oppure foglie cadute che secondo me ci può stare sempre bene queste piccole decorazioni che aggiungono un po' di colore e di contrasto tra le altre secondo me ci stanno veramente bene soprattutto aggiungono un tocco magari ai mondi che assumono lo stile principalmente di legna come il mio tra l'altro so che in molti utilizzate uno stile anche che utilizza la legna e quindi ragazzi se volete decorare magari qualche zona che ritenete troppo marrone secondo i vostri punti di vista secondo me aggiungere qualche foglia o qualche fence più che è più cara del legno normale ci può stare abbastanza bene e questa qua dovrebbe essere praticamente l'arcata che non è per niente male magari qua anche qualche altra foglia è ok per quanto riguarda il resto delle decorazioni che vorrei fare oggi vorrei aggiungere qualche panchina in giro per il mondo qua vorrei lasciare stare la zona precisamente quella lì perché ci costruiremo una cosa in futuro non ve la spoilerò per nulla però per esempio aggiungere qualche panchina qua in giro che mi crafto adesso a questo punto non ci starebbe per nulla male magari anche in mezzo agli alberi direi che una crafting table qua potrebbe anche essere utile magari la metto dentro la stalla visto che non ho nulla qua dentro e a questo punto facciamo delle panchine sfruttando il solito metodo di utilizzare delle scale con poi di fianco dei cartelli quindi sim, sala, bin e dovremo avere abbastanza cartelli per fare anche le panchine allora 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 le panchine come le mettiamo? tecnicamente metterle a distanza di uno sta già facendo notte mi sa di... no è mezzogiorno ok tecnicamente metterle a distanza di uno dalla strada secondo me ci potrebbe stare abbastanza bene tra l'altro qua ho dovuto allargare il passaggio perché era asimmetrico e secondo me è un passaggio che conduce a un ponte e farlo soltanto a largo tre non ci sta bene comunque stavo dicendo fare le panchine secondo me a distanza di uno sarebbe anche abbastanza buono ma poi ci sono gli alberi quindi secondo me la distanza migliore a cui fare le panchine è esattamente magari tra gli alberi così e anche qua di fianco magari attaccata all'albero questa quindi stacchiamo questo punto qua che non ci sta troppo bene qualche panchina qua ci potrebbe anche stare non troppo male non voglio toccare troppo questa zona perché come già detto ci voglio costruire poi in futuro quindi secondo me lasciare anche spazio per un sentiero qua sopra non è male come idea e a questo punto aggiungo qualche panchina qua ok poi più che altro le panchine serviranno appunto per decorazione non avranno una funzione particolare però mi serviranno anche per delimitare il passaggio magari di qualche sentiero che poi andrò a fare in futuro quindi se volete delimitare magari i vostri passaggi secondo me fare panchino o comunque aggiungere qualche decorazione non ci sta per nulla male tra l'altro qua di fianco c'è il sapling che non mi permette di mettere là il cartello per fare il bracciolo della panchina quindi spostiamo un attimino e quando in futuro avremo una farm di ferro ragazzi a questo punto mi crafterò anche dei calderoni per metterli tra le panchine in maniera tale che sembrino quasi cestini a questo punto direi che aggiungere qualche altro cespuglio non ci sta per nulla male soprattutto perché queste sono delle panchine di solito di fianco alle panchine ci sono i cespugli e quindi direi che si può continuare con questo tema di decorazione perfetto e a questo punto ragazzi direi di mettere l'ultimo tocco decorativo ovvero qualche albero che sembra caduto per fare ciò la maggior parte di voi già lo saprà basterà semplicemente mettere un log di legno ovvero un tronco di legno a vostra scelta e poi cercate appunto di utilizzare lo stesso tipo di legno per fare anche il resto dell'albero in verticale per poi aggiungerne qualche altro staccato messo in orizzontale in maniera tale che sembra quasi che un albero sia caduto esattamente in questa maniera poi se volete il mio consiglio tecnicamente è quello di aggiungere qualche foglia così qua intorno in maniera tale che sembrino le fronde dell'albero che ci sta veramente molto bene non consiglio di metterne tantissime perché come la maggior parte di voi può già immaginare le fronde una volta che appunto vengono schiacciate dall'albero sono schiacciate quindi secondo me aggiungerne anche qualche una nel terreno non ci sta per niente male ecco questa ragazzi è una cosa che in pochi di voi sanno ma nel mio mondo piove veramente veramente molto spesso spero che questo non sia un temporale altrimenti rischio che tutta la roba che appunto è fatta di legna va da fuoco ma comunque secondo me si può anche ignorare sembra soltanto una normale pioggia e tra l'altro a me il suono della pioggia piace davvero davvero tanto ok secondo me aggiungendo anche un altro albero caduto di qua non ci starebbe per nulla male devo soltanto stare attento perché ho quasi finito le foglie utilizzandole appunto per decorare il mondo ma secondo me direi che fare una cosa di questo genere può bastare e avanzare magari anche una foglia lì e ok secondo me ragazzi le decorazioni con il mondo sono finite tra l'altro non so come questo pezzo di legna sta ancora bruciando tecnicamente non dovrebbe bruciare per così tanto tempo dovrebbe distruggersi dopo un po' ma direi che come decorazioni ci possono stare davvero davvero bene tra l'altro come potete vedere il falò al buio ci sta veramente veramente molto bene tra l'altro aggiunge una fonte di illuminazione nel giardino di casa mia che secondo me è soltanto un tocco in più a questo punto ragazzi direi di dare un'occhiata al progetto finito dopo aver dormito in quanto secondo me durante il giorno si possono vedere la maggior parte delle decorazioni nella loro miglior forma e voglio anche farvi vedere una piccola modifica che mi sono quasi dimenticato alla farm di pesca in quanto ragazzi la farm di pesca sarà parzialmente coperta ora non ho la spada mannaggia ho visto uno scheletro qua davanti non so perché non mi sta attaccando c'è anche un creeper ok adesso sembra essersi svegliato credo che mi convenga lasciar stare perché ci sono due creeper comunque ragazzi vi stavo dicendo non mi sembra di avervelo detto ma comunque qua sopra alla farm di pesca ho messo appunto un blocco di vetro questo perché quando poi andremo a coprire la farm di pesca con la decorazione a forma di lisca che è tra l'altro un consiglio che mi avete dato alcuni di voi servirà comunque uno spazio che offre luce al blocco di acqua che abbiamo messo per appunto pescare in maniera tale che ci sia più probabilità di pescare se volete avere le massime probabilità di prendere qualcosa mentre pescate il mio consiglio è di mettere qualche fonte di illuminazione e aspettare la pioggia in quanto sono le condizioni migliori per pescare comunque ragazzi considerato il fatto che qua poi ci dovremmo costruire qualcosa là è pieno zeppo di mob secondo me come decorazioni ci possono stare abbastanza bene magari qua è ancora un pochino spoglia come zona quindi ci metterò qualche albero al mio ritorno stessa roba da questa parte però di qua c'è un altro progetto che voglio costruire in futuro quindi ragazzi secondo me le decorazioni per oggi si possono ritenere concluse tra l'altro direi che ci possono stare molto bene e tra l'altro secondo me ragazzi le decorazioni degli alberi caduti ci possono stare molto bene in zone come questa dove si farma molta legna tra l'altro ragazzi molti di voi mi avete consigliato di fare la farm di legna come farm per appunto la serie non credo di farla per il semplice fatto che comunque è vero ti organizza tutta la legna da prendere in un'unica zona ma poi comunque la legna bisogna scavarla quindi tanto vale per me prendere la legna direttamente dagli alberi a questo punto ragazzi spero vivamente che anche questo semi episodio vi sia piaciuto se sì mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace che oltre a supportare me la serie supporta anche il canale a questo punto ragazzi non mi resta altro che augurarvi buone vacanze se andate in vacanza oppure spero che vi siate divertiti se siete già andati in vacanza a questo punto ragazzi vi aspetto al mio ritorno che sarà intorno al 24 di agosto sul canale e a questo punto ragazzi come sempre voglio augurarvi una buona giornata una buona serata e a questo punto di rivederci al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti